Grazie a Enzo per il graditissimo invito. Ha parlato il mio presidente, in teoria, Dico subito una cosa, come Enzo stamattina mi aveva preceduto in una cosa che volevo dire, nel senso che stiamo vivendo un momento molto importante, io lo definisco quasi epocale, nell'introito di nuove molecole in tutti i campi, più o meno, ma per noi nefrologi sono molto, quello che ha detto Luca è fondamentale perché ha fatto vedere come in realtà, sì, ci sono alcune molecole, non tutte coprono completamente tutta la patologia dell'insufficienza renale e della sua progressione, ma è vero un'altra cosa, è pur vero che probabilmente ci approcciamo sempre di più a quello che è una multi-ipotesi diagnostica verso una multi-target therapy. Questo noi lo stiamo vedendo, l'abbiamo appreso dai trapianti, dove facciamo più farmaci che agiscono su più punti, riducendo le molecole che stiamo utilizzando, quindi riducendo pure gli effetti collaterali delle molecole stesse, e avendo un affetto sinergico che è quello che ci ha fatto vedere Luca nella fattispecie. Ma io mi devo occupare invece, questo lo volevo dire perché secondo me veramente, non dico nell'acqua potabile, ma i risultati che abbiamo avuto con queste molecole che ci sono ora a disposizione per noi nefrologi e per quello che significa ridurre la progressione del danno renale, è veramente importante. Vabbè, la malattia renale cronica è una vera e propria pandemia a livello mondiale, l'11% della popolazione mondiale è il quinto posto per le morte per tutte le cause, con un investimento di denari dal punto di vista sanitario che è mostruoso. Questo non si ferma qua, procede sempre di più, c'è le prospettive, la prevalenza che ci aspettiamo nel 2026 è del 16%, quindi la spesa sanitaria, guardate che in Sicilia ogni anno si spendono soltanto per i dializzati 200 milioni di euro, ogni anno soltanto per la dialisi, quindi è un impatto socio-economico veramente alto, quindi l'obbligo è quello di usare tutte le armi che abbiamo, tutte le armi che abbiamo e subito, vi faccio vedere perché, subito, perché dobbiamo andare a fermare una vera e propria pandemia se volete. E il diabetologo c'entra, a voglia se c'entra, il 50% di questi pazienti che entrano in dialisi sono diabetici, il 50% è un'enormità, se poi ci aggiungiamo gli ipertesi, e guardate che i diabetici quasi sempre lo sapete meglio di me, sono ipertesi, arriviamo all'80% dei pazienti che vanno a finire in dialisi, 50 mila euro paziente hanno ogni paziente che entra in dialisi. Cosa c'entra? Parlava, si parlava, Luca ha parlato spesso della proteinuria, luminuria, cosa c'entra con la nefrologia e cosa c'entra con il diabete, voi lo sapete benissimo, noi lo sappiamo perché tutto il danno che si viene a creare nella nefropatia diabetica è determinato dal glucosio, il glucosio che guardate, queste sono delle slide che mi ha regalato Vito Campese, guardate come nella microiniezione si ha lo spasmo a livello dell'endotelio dell'arterio lafferente, quel verde che vedete è la reina, quindi quando c'è un insulto da parte del glucosio a livello dell'endotelio, a livello renale cambia tutta l'omenostesi all'interno del glomerulo stesso, sia da parte dell'arterio lafferente di tutto quello che c'è attorno, quindi RAS, sistema di reina angiotensia e altosterone, produzione di ritropoietina, vitamina D, tutto cambia e cambia la pressione idrostatica all'interno del glomerulo stesso, quindi cala il GFR. Quindi di cosa stiamo parlando? Di danno endoteliale, e se il rena è questo, è cavolo, cioè ha voglia di endotelio che c'è qua, ha voglia di danno che si ha. Quindi il nostro scopo qual è? Quello di arrivare prima possibile a quel danno endoteliale, correggerlo il prima possibile, perché si faccia in modo che quando siamo quando siamo nella prima fase, là, quello è un rene normale, e là già c'è una microalbuminuria, per esempio, ma non si manifesta a livello morfologico, non si deve arrivare a quello di cui vi devo parlare io, che è l'end stage renal disease, perché già là noi non possiamo fare più niente, nessuno può fare più niente. La progressione verso la dialisi è inesorabile, si va in dialisi, quindi più perdiamo tempo, più le lesioni non sono sanabili, più si va verso la dialisi. Di fatto cosa succede? Ora, vedete, nella prima parte è un numero normale, quelle, questi, io non so come fare qua, va bene, vediamo se ci... insomma, tutti quei forellini bianchi che andavete a vedere di quel glomerulo là, è tutto l'endotelio, quello è il globo, è la parte vascolare. Guardate cosa succede nella nefropatia diabetica, vedete tutte queste masse che ci sono, questi agglomerati che ci sono, nodulari, sono quelli che rovinano il glomerulo. Ma come succede questa cosa? Succede banalmente in questo modo qua. Abbiamo detto che si parla di disfunzione endoteliale. La disfunzione endoteliale, il glomerulo, la membrana basale del glomerulare, è formata da endotelio sostanzialmente. Se c'è questa disfunzione determinata da questa iperglicemia, o comunque dall'insulto del glucosio in generale, tra virgolette, ecco che l'albumina passa, passa a livello tubulare, ne passa tanto, non dovrebbe passare, quindi la microalbuminuria deve essere zero, tendenzialmente quello deve essere il valore che dobbiamo aspettarci normalmente. L'albumina passa, viene riassorbito a livello tubulare, viene riassorbito tanto, crea diversi danni, tra cui la produzione di matrice, che è quella parte rosa, pass positiva che vedevate là, nel glomerulo stesso, forma dei cilindri, ostruendo il glomerulo stesso, ma addirittura, quando è ancora più grave, ed è più abbondante, questa albuminuria, questa proteinuria, va a alledere addirittura direttamente tutta la capsula andando a creare una fibrosi e andando in sclerosi del glomerulo. Quindi l'albuminuria, le proteine, sono il nostro vero problema, che parte da quel danno del diabete che era a livello endoteliale. Quindi l'albuminuria costituisce l'espressione renale di un disordine generalizzato, caratterizzato da una disfunzione endoteliale sistemica. Questo lo sanno bene i cardiologi, che quando vedono i loro pazienti con l'infarto miocardico acuto, e sono albuminurici, sanno benissimo di stare molto attenti, perché nel primo giorno hanno una mortalità del 25%, nel terzo del 35%, mentre quelli che non sono microalbuminurici, dell'1%. Guardate che sono numeri grossi questi. Il peso clinico della CKD aumenta, l'ha fatto vedere benissimo Luca, come l'insufficienza renale che progredisce è un acceleratore per il danno cardiologico. Se ne è parlato oggi, è molto attento nella sessione precedente, e questo andrei veloce. Tanto è importante la proteinuria, tanto è importante la microalbuminuria per noi, nefrologi, che nelle nostre che dico, che vanno a stadiare l'insufficienza renale, i gradi di insufficienza renale per calo del GFR, noi abbiamo inserito la microalbuminuria. perché guardate che ci possono essere situazioni come quelle in alto a destra, dove tu hai una presenza di microalbuminuria, ma il rene che sta iperfiltrando sta subendo un danno, sta subendo un danno. Noi dobbiamo inserirci nelle prime fasi, dobbiamo entrare lì perché quel rene non evolva verso lo stadio terminale di insufficienza renale. Quindi la microalbuminuria, che banalmente è un esame che voi diabetologi fate spessissimo, i cardiologi, devo dire, un po' meno, guardate su questo lavoro dove si vanno a testare, al 16%, devo dire che sì, il cardiologo lo richiede poco rispetto a un ecocardio, un ecodoppler TSA che è dell'86% delle volte su questo lavoro, su 1.400 pazienti. Lo chiede molto raramente. Il diabetologo lo chiede di più, devo dire. Nel nostro riscontro clinico giornaliero, diciamo, lo richiede molto di più. Però tende a seguirlo. Quando ci sono delle fasi, delle fasi iniziali di microalbuminuria, lo segue. Per noi invece è un red flag grande quanto una bandiera rossa, non lo so, davanti popolo. Attenzione, un'altra cosa che mi preme sottolineare con i diabetologi da nefrologo è quello del fatto che sì, vedete le proteinurie, vedete le albuminurie, però attenzione perché una parte di queste, anche se il paziente è diabetico, non dobbiamo dimenticarci che ci possono essere gli overlap di malattie e guardate qua in che percentuali ci possono essere. Quindi attenzione ad applicare quell'algoritmo che voi ci avete suggerito sostanzialmente e andare a finire, se andate a finire in quello che è escludere altre malattie renali, là entra in gioco una procedura che è quella della biopsia renale che ci consente di dare una diagnosi certa della patologia che abbiamo davanti, spesso in associazione con la Kim St. Wilson che è la nefropatia diabetica istologica. Ma andiamo direttamente a quelle che sono le problematiche cliniche giornaliere di chi gestisce dei pazienti in insufficienza renale cronica terminale in trattamento sostitutivo da parte del nefrologo e da parte del diabetologo. Abbiamo due tipi di trattamento depurativo, uno extracorporeo che è l'emodialisi, prendo il sangue e lo faccio passare attraverso un filtro dove in controcorrente c'è del liquido con delle soluzioni note tra cui il glucosio pure e per osmosi tiro via da una parte del sangue tutte le sostanze e voglio tirare per osmosi o per convezione che è una tecnica di aspirazione di acqua e molecole attraverso una membrana che so cosa fa passare. Sostanzialmente questo è. Quella invece della peritoneale è una tecnica intracorporea quella si fa tre volte alla settimana per quattro ore. È una terapia extracorporea intensiva se volete perché io tiro fuori sangue dal paziente a 250-300 ml al minuto. quindi se c'è una stabilità cardiovascolare devo stare particolarmente attento. La peritoneale è una tecnica altrettanto efficace che utilizza acqua e zucchero acqua e glucosio a diverse concentrazioni lo metto dentro la pancia di questo paziente con un rubinetto lo faccio entrare lui tira questa questa soluzione con concentrazioni di glucosio a secondo di cosa voglio fare so quanto glucosio devo mettere che percentuale tira via le scorie dal sangue sempre attraverso una membrana semipermiabile che in questo caso è il peritoneo. Bene quali sono le problematiche nella gestione del diabete mellito nei pazienti che fanno queste terapie? Allora ce l'ha fatto vedere in parte Luca maggior rischio di ipoglicemie le glicemie sono assolutamente instabili in questi pazienti difficilissime da gestire si passa dall'iperglicemia a ipoglicemie con una facilità estrema spesso durante le sedute emodialitiche siamo costretti a ridurre a fermarci e a staccare il paziente e non possiamo procedere perché ci sono delle stabilità gravissime delle ipoglicemie molto gravi l'aumento del rischio cardiovascular già ne abbiamo parlato l'aumento del catheter related bloodstream infection è una cosa banalissima il paziente in dialisi in emodialisi è un paziente costantemente infiammato e voi ci avete insegnato che sostanzialmente tutte volte che c'è un'infezione o un'infiammazione la risposta all'insulina o la risposta comunque che hanno i pazienti diabetici ai farmaci che andiamo a somministrare è alterata sicuramente nel libretelmerito scompensato come vi ho detto si deve staccare prima per questi problemi e la resistenza agiesa all'eritropoietina è un altro problema per noi molto grave perché il paziente soffre di un'anemia secondaria derivata dalla carenza di eritropoietina perché il rene non funziona più questa è la fisiopatologia mi fermo soltanto su alcune cose perché tutte quelle cose succedono sostanzialmente diciamo che queste sono tutte le cause che abbiamo preso in considerazione una delle cause molto importanti è che dobbiamo tenere presente noi e vi chiedo di farlo pure voi perché poi è l'aiuto che noi vi chiediamo è quello del fatto che per esempio nella dialisi nell'emodialisi le tossine uremiche sono dei veri competitori dell'insulina dei veri e propri competitori dell'insulina non la fanno funzionare per cui io ho una parte dell'insufferenza renale cronica dove devo dare probabilmente più insulina perché questi se ne vanno in iperglicemia ma poi a secondo cosa succede il metabolismo che hanno possono andare nel lipo quando li metto in dialisi si fanno delle crisi ipoglicemiche gravissime alternate a picchi iperglicemici nella dialisi peritoneale siccome il peritoneo può di solito non assorbe perché i cristalli di glucosio che questo glucosio che andiamo a mettere è legato è creato in maniera tale che possa non essere assorbito come glucosio normale però una parte viene assorbito abbiamo bisogno del vostro aiuto per andare a compensare questi tipi di pazienti una cosa che che si è studiata è uscito un articolo quell'anno e mezzo fa che era questo che vi avevo fatto vedere prima è quella della burnout diabetes fenomeno nel paziente con insufficienza renale la tendenza cosa significa significa che per tutto quello che vi ho detto le glicemie di questi pazienti esprimamente quelli che entrano in dialisi appena tu li pulisci delle tossine uremiche è come se d'incanto tutto quello che gli stavamo dando di farmaci come ipoglicemizzanti funzionano di colpo quindi questi mi crollano immediatamente nell'iperglicemia poi nel frattempo risalgono perché finiscono le sedute oppure vanno aumentando le tossine uremiche e si fanno le iperglicemie quindi c'è questa instabilità pazzesca in questi tipi di pazienti è inutile che vi vi sto con Enzo abbiamo risolto un po' un po' di casi nella mia casistica civico sia in peritoneale che in emodialisi devo dire che avere il controllo continuo di tutto ciò è parlare col diabetologo e dirgli guarda sta facendo la dialisi peritoneale alzami i basali della notte perché sta facendo una notturna sto usando delle glucosate un po' più pesanti aiutami a gestirlo questo colloquio tra nefrologo e diabetologo è fondamentale c'è questa bellissima review che parla del controllo continuo della dicemina e vi fa vedere come variano in dialisi quell'oltre di cui parlavate stamattina che mi è fatto molto piacere vedere ho imparato un sacco di cose vedete come durante la seduta emodialitica ci sono molte tossine siamo nella parte più lontana dall'ultima seduta emodialitica le glicemie iniziano a salire poi fanno la seduta emodialitica e crolla di colpo la glicemia nelle parti invece della non quando non fanno la dialisi nello stesso giornate vanno tendenzialmente all'iperglicemia perché perché siccome il controllo di maggiori noi li facciamo durante la seduta emodialitica e quasi sempre abbiamo dei picchi alti di glicemia tendiamo a aggiustare quella glicemia ma poi l'indomani questi si fanno le ipoglicemie c'è un un bel lavoro che è un trial randomizzato un crossover aperto che ci fa vedere invece l'utilizzo di quei device che ci avete fatto vedere oggi e che sono veramente risolutivi guardate non è inutile che ve la faccio vedere io ve la descrivo io voi siete molto più bravi di me ma guardate come viene controllata la glicemia in un paziente in dialisi con con il microinfusore e guardate come quel valore che voi ora utilizzate moltissimo visto che è quello della della percentuale a target giornaliero che fate guardate i quelli che usano il microinfusore durante le sedute emodialitiche e durante le non sedute emodialitiche perché vedete 1, 3, 5, 7, 9 sono i giorni in cui fanno la dialisi quelli in mezzo sono i giorni interdialitici e guardate che comunque quelli che lo usano rispetto a quelli che non lo usano vanno più a target rispetto agli altri quindi è secondo me è un segnale molto importante questo la stessa cosa sono le problematiche le sono praticamente le stesse per la dialisi peritoneale qua soltanto per farvi vedere una cosa i social sì sì ho finito ho finito è l'ultima l'ultima diapositiva soltanto per farvi vedere che il caregiver ha un'importanza fondamentale su per il supporto di questi pazienti e che vanno meglio se c'è un caregiver e se ci perdiamo un poco di tempo a parlargli e a spiegargli come stanno le cose e qua soltanto per dirvi che io continuo a stressare mi dispiace ci farò un lavoro e ne ho parlato già con Enzo perché nel dializzare non è possibile che noi non utilizziamo queste molecole non capisco bene per quale motivo nei pazienti con insufficienza renale più avanzata ma dobbiamo avere questo target sia per quelli che sono sopra 75 sia sotto quelli 20 di filtrato non lo capisco perché il beneficio è enorme gli altri punti mi dicono soltanto in ultimo che è questo quello che riassumendo che in conclusione quello che dobbiamo fare secondo me è la prevenzione il riconoscimento precoce dei segni clinici e di laboratorio quindi microdovinuria biopsia renale perché abbiamo visto quanto la microdovinuria vecchio esame ma quanto sia importante intervenire subito subito quando c'è questa cosa quando compare il microinfusore sondaggio del glucosio continuo dobbiamo parlarne ci dobbiamo sedere perché è importantissimo questa relazione che c'è tra noi e voi e la multidisciplinarità implementare l'informazione rivolta agli specialisti chiamati in causa quindi diabetologi nefrologi e cardiologi abbiamo visto l'introito pure del 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 finerenone e al territorio concorsi su tecniche dialitiche perché se voi non sapete che cosa gli sto facendo io al paziente che tecnica dialitica sto adoperando e qual è l'esigenza di quel paziente in quel momento con l'utilizzo di nuovi farmaci che voi ci dovete aiutare a trattare a utilizzare e i nuovi device che ci sono che ho visto oggi sono pazzeschi senza di questo non i nostri pazienti non possono soffrire di tutti i vantaggi che ci offrono questo da buone frodo vi ringrazio tutti e vi auguro sempre lunga vita che ci sono